Per favore Ragazzi dovremo accelerare Perché se no non vediamo più a destinazione Tarelle stanca Ok grazie Sempre cattivo Ah pure parlato Ragazzi andiamo Via via Andiamo Stai strano Dovevi vedere quella con la Barbara Aspetta un secondo Non c'è l'unico Girati Andiamo Uno due Grazie Perfetto Andiamo Fiore Grazie Grazie Grazie